E rieccoci nuovamente insieme, ospiti di Magic Bike, mi trovo a Torino in corso casale 479, il mio benvenuto, un benvenuto un po' insolito, visto che siamo all'interno di questo mezzo insolito, ma apprezzatissimo, va naturalmente a Giorgio Foi, ciao! Ciao Sonia, un saluto a tutti voi ragazzi, oggi siamo qua sul nuovo 1000 Yamaha, che Sonia ha avuto modo di vedere da vicino, il nuovo Side by Side 1000, venite perlomeno solo a vederlo, non lo facciamo provare ovviamente perché è spaventoso, motore 1000, è totalmente nuovo, tre cilindri, cambio sequenziale, però potete farvi un giro a vederlo. Tellaio sportivo puro, un mezzo assolutamente da scoprire, io vi ricordo che Yamaha è il leader nei Side by Side, questo è l'ultimo innovativo mezzo che la Yamaha vi offre per esplorare, per lavorare, ma anche per divertirvi. Naturalmente, io lo ricordo, questo lo puntualizzo, solo Giorgio Foi ce l'ha, no diciamolo perché di questi ce ne sono pochi in Italia e questo è un pezzo più unico che è raro. Vero, pronta consegna subito per voi, solo qui a Torino alla Magic Bike. E naturalmente da Magic Mike c'è tutto il resto della gamma Yamaha in pronta consegna da venire a scoprire, vedere e provare con delle ottime promozioni in corso, soprattutto sul T-Max. È vero, allora adesso vi faccio un piccolo riepilogo delle promozioni che sono partite adesso da settembre, visto che andiamo nel mese di settembre-ottobre. Allora, vi ricordo che sulla famiglia degli X-Max abbiamo il tasso zero, nell'X-Max 125, 250 fino a 4.000 euro, mentre per l'X-Max 400 addirittura arriviamo fino a 6.000 euro a tasso zero. Quindi è un'ottima opportunità per comprarlo oggi, in quanto non pagate la rateizzazione. Poi vi ricordo che c'è sempre un prezzo molto interessante sull'XV 9,50, il custom di casa Yamaha, il nostro Bobber, che costa meno di 7.000 euro. Quindi un prezzo incredibile per una moto nuova, 9,50 di cilindrata, Euro 3. Anche questa è una moto che potete venire a vedere. Poi, come vi ha detto Sonia, abbiamo un'offerta che facciamo solo da adesso sul T-Max, sul colore Sonic Grey o argento. Vi diamo un'ottima opportunità. Praticamente potete avere il T-Max nuovo, con il variatore montato o maggio, il parabrezza sportivo montato o maggio e il portatarga sportivo montato o maggio. Un minimo acconto di 1.590 euro. O valutiamo la vostra permuta, che potrebbe avere sicuramente anche un valore superiore, ma al minimo, diciamo, è 1.590 euro. Potete avere il T-Max con 180 euro al mese. Addirittura, considerando che il T-Max è un veicolo, diciamo, un pochino rubato, con 197, quindi siamo sotto i 200 euro al mese, vi diamo due anni di polizza furto incendio, compresa nel prezzo. Bene, ottima opportunità d'acquisto. Sei stato molto dettagliato per quanto riguarda il T-Max, ma io vi ricordo che sono tante le opportunità e tante le promozioni all'interno di questo bellissimo showroom. In primis, vi ricordo anche che le vacanze da Magic Bike non finiscono mai se decidete di acquistare la vostra prossima due ruote qui da Giorgio Foi. Perché non finiscono mai? Perché ci sono dei pacchetti viaggio compresi nel prezzo. Esatto, Sonia vi ha dato un'altra news che parte adesso da settembre. Per settembre, ottobre, che sono comunque ancora due mesi dove c'è il sole, dove la temperatura può essere mite, offriamo l'opportunità a chi compra la moto di oggi di avere una settimana di vacanza pagata da noi. Quindi venite a chiedere, vi spiegheremo nel dettaglio come funziona questa opportunità che vale sia per la montagna, per il lago che per il mare. Abbiamo tutta l'Italia e anche la Sardegna, quindi anche questa è un'opportunità che vi diamo. Venite a chiedere, vi spiegheremo bene come funziona e potrete capire qual è l'opportunità che vi interessa di più. Bene, ricordiamo che all'interno di questo showroom ci sono tantissimi mezzi usati, freschi, freschissimi, con delle ottime condizioni d'acquisto. È vero, adesso andremo a vedere gli usati, ma mi ricordo ancora di dirvi che è arrivata la nuova Tracer 700, che potete venire a vederla, disponibile in tutti i colori. Quindi nella famiglia Tracer, oltre la 900, adesso è arrivata la 700. Meno di 8.000 euro, una moto incredibile. Venitela a vedere perché è molto bella. Bene, a questo punto ti cedo come di consueto il microfono e voi naturalmente rimanete in nostra compagnia. Allora, ed eccoci qui con il nostro usato. Partiamo subito da Super T-Max. Quello che potete vedere con il numero 99 è un T-Max incredibile, monta la turbina di magistrati, quindi un T-Max da oltre 100 cavalli, è un T-Max con una forcella Hollins, dischi da 310, pinze Brembo, anche Hollins al posteriore, pompa a freno Brembo, monta tutti gli accessori che ci possono essere in commercio. Venitelo a vedere perché è un pezzo veramente unico. Vicino a lui invece potete vedere un nuovo T-Max, modello 2015 Iron Max, con dischi a margherita, anche questo è un T-Max unico, ce n'è pochissimi di 2015, 4.000 km, venitelo a vedere. Sui T-Max non entro molto nel dettaglio perché hanno una rotazione molto veloce e quindi rischierei di dirvi dei T-Max che quando poi varrete qua in negozio non vedete più. Per i T-Max dovete telefonare e chiedere cosa c'è sul momento. Come vedete ne abbiamo sempre una decina in casa le abbiamo però purtroppo ruotano in maniera molto veloce. Abbiamo sempre T-Max, comunque a partire da 2.000 euro i modelli a carburatori e dai 3.000 euro in su i modelli già in iniezione. Quindi avete un grosso assortimento di prezzo. Come sempre vi vengono dati col tagliando completo fatto con la voltura e un anno di garanzia. È possibile acquistarli con rate a partire mediamente dai 70, 80, 90 euro. Però venite a chiedere e vi faremo un preventivo dettagliato. E adesso vi volevo proporre questa MT-07 bellissima. È una moto del 2016, super accessoriata. Come potete vedere monta di tutto. C'è la marmitta, il portatarga sportivo, le selle, le maniglie, specchietti, manopole, leve, frecce. Qui veramente abbiamo montato di tutto. Il cliente è passato a una cilindrata superiore. Questa moto è una super occasione. Venitela a vedere. Subito dopo di lei potete vedere una bellissima XJ6 bianca Yamaha. Una moto del 2011. Molto bella, 18.000 chilometri. La richiesta è 3.800 euro. E poi passiamo a qualche Hornet. Ne abbiamo vendute molte ma qualcosa è rimasto. Questa è una bellissima Hornet del 2005. 44.000 chilometri. La richiesta sono 2.500 e 2.600 euro. Ne ho una anche più recente del 2007. Sempre lo stesso colore con 30.000 chilometri. La richiesta sono 3.300 euro. Poi abbiamo due bellissime MT-03. Vi ricordo che sono anche depotenziabili. Quindi si possono usare con la patente fino a 35 kilowatt. Una moto del 2007 e una moto del 2008. La richiesta è intorno ai 3.500 euro. Anche queste sono moto eccezionali. Per chi inizia, venitela a vedere. Vi faremo un preventivo dettagliato. E qui vi faccio vedere una bellissima R6. una moto del 2016, nuovissima, 600 chilometri. Monta la forcella Hollins completa. Dischi grandi a Margherita, pinze Brembo e pompa Brembo. Qui anche abbiamo veramente montato di tutto. Lo scarico completo a Karpovic. Una moto da venire a vedere. È un po' particolare da intenditori. Vicino abbiamo un'altra moto R6. Una Limited Edition del 2011. Bellissima, 19.000 chilometri. La richiesta è sugli 8.000 euro. E vi ricordo che sono in arrivo altre due R6. Una nera e una bianca e rossa. Degli anni 2007-2008. Quindi con dei prezzi molto più contenuti. Qua vicino sempre abbiamo una bellissima R1 Blue. Una moto da 12.000 chilometri. Una moto molto bella. Del 2009. La richiesta è 7.300 euro. E poi abbiamo una bellissima MV Augusta. È un F4 1.088 RR 312. Una moto del 2008 con 21.000 chilometri. La richiesta è 8.300 euro. E per gli appassionati della Vespa vi faccio vedere subito tre veicoli bellissimi. Uno addirittura un 2016 poco più di 200 chilometri. Un GTS 300 azzurro. Bellissimo. Venite a vederlo perché è uno spettacolo. Un altro GTS 300 nero. Una moto del 2011. Sui 4.000 euro. E poi abbiamo anche un GTS bellissimo. Grigio. Un 250. Anche questo estetica da vetrina. Venite a vederlo. E per fare un po' di turismo. Una bellissima Honda NC 750X. Una moto del 2014 con 7.000 chilometri. La richiesta sui 6.000 euro. Se volete qualcosa di un po' più aggressivo. Vediamo un bel KTM 990. Un motorone. Una moto del 2012 con 18.000 chilometri. La richiesta sono 8.500 euro. Qualcosa di un po' più tranquillo. Un bel 6.90 Duke ABS. Una moto del 2012 con 14.000 chilometri. La richiesta sono 5.500 euro. E non ci facciamo mancare anche una bellissima Husqvarna 6,30. E ci siamo trasferiti ai piani superiori. Dove vi attende naturalmente l'abbigliamento con tutte le novità autunnali. E' vero. Sono già arrivate le nuove collezioni di Dainese. Le nuove collezioni Bering. Una quantità incredibile di guanti. Perché ci avviciniamo al periodo invernale. Quindi chi ha bisogno di protezioni un po' più idonee per il freddo. Che qui da noi purtroppo d'inverno c'è. Sono arrivate tutte le nuove collezioni. Tutte le nuove collezioni. Venite a vederle. E naturalmente ad acquistarle anche. Ma le sorprese da Magic Bike non finiscono mai. Perché? Perché sta preparando un grande evento per voi. Per gli appassionati delle due ruote. A fine mese. Adesso la data non si sa bene ancora quando è. Però ci sarà un ospite d'eccezione. Sì, potrebbe essere anche più di uno. Però vi confermiamo che faremo un evento con Pecco Bagnaia. Penso che tutti voi lo conoscete. Pilota della Moto3 e della Maindra. Che in questo momento è terzo nel mondiale. A pochi punti dal secondo. Speriamo nelle prossime gare di poter risalire la classifica. Faremo questo evento. Sarà presente Pecco qua da noi. Potrebbe essere il primo ottobre. Però seguite la nostra pagina Facebook. Perché vi confermeremo la data. Ci saranno anche i suoi genitori. E questo potrà servire a tanti di voi. Che hanno dei figli comunque giovani. Per poter parlare con Pecco e i suoi genitori. Capire come si sono avvicinati a questo mondo. Dalle minimoto. Perché poi dovete sapere che Pecco ha anche un fratellino. Che si chiama Filippo. Che sta proprio in questo momento. Muovendo i primi passi sulle minimoto. Quindi purtroppo per Pietro. Che il papà riparte tutto l'Ital. Per ricrescere un nuovo campione. E chi va a sese. Quindi se avrete voglia. Verrete. Potrete parlare con loro. E vi spiegheranno tutti i sacrifici. Che hanno dovuto fare. Per portare Pecco dove adesso. Però una grossa soddisfazione per tutti. Anche per noi che siamo sui amici. Oggi nella VR46. Nell'Academy. Il prossimo anno. Il prossimo anno. Come saprete. Sarà nel team ufficiale. Di Valentino Rossi. Nella Moto2. E quindi saremo di nuovo lì. Hai già detto tanto. Secondo me. Lo hai detto troppo. Dovete venire a parlare voi con lui. E sicuramente capirete che questo mondo è ricco di sorprese. Detto questo. Io ti saluto. Alla prossima. Salutiamo tutti. Un saluto ragazzi. A presto. Ciao.